Ed eccoci qua, Beauty Queen Italia con le madrine della meravigliosa terra della Puglia. Vi presento Raven Voice. Buonasera a tutti, ciao. E Moet Sharon. Ciao, ciao, ciao. Allora, l'anno scorso Moet era una partecipante. Quest'anno come ti senti in veste di madrina? Sicuramente una soddisfazione immensa e forse un po' più responsabile. Ci vuole un po' più di responsabilità adesso quest'anno. L'anno scorso era un momento guliardico, spensierato perché comunque sì c'era la tensione ma la voglia di mettersi in gioco. Quest'anno dobbiamo giudicare e saremo cattive. Cattive, cattive ma soprattutto lei è riconosciuta in tutta Italia come la madrina la di più. Quest'anno la di più, cosa regalerà questa serata meravigliosa? In questa serata meravigliosa regaleremo sorrisi e spensieratezza che è la cosa principale per un concorso drag perché dobbiamo portare sempre allegria e poi giustamente daremo un pizzico di pazzia come sempre. Allora la pazzia ci distingue a noi della Puglia perché io sono onorata di essere in mezzo alle mie amiche e colleghe pugliesi. Ma parliamo adesso della vostra beauty queen. Chi è e cosa ci regalerà? La nostra beauty queen è Brenda Marshall e ci regalerà con l'abito sfilata un abito molto particolare ispirato all'arte. Non vogliamo svelare nulla poi la vedrete direttamente sul palco di Beauty Queen Italia. E allora a nome della madrina nazionale Simona Sventura vi ringrazio e buona serata a Beauty Queen Italia.